Sì, un po' di rabbia, un po' di delusione perché non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. L'abbiamo fatto parzialmente, quando l'abbiamo fatto bene in fase di riconquista, abbiamo sbagliato tanto in fase di impostazione e la partita era anche semplice perché da leggere era abbastanza facile e l'avevamo preparata così e cercando di lasciare un po' di campo al Tolentino per poi colpire velocemente, con pochi passaggi, ripartenze. Abbiamo avuto diverse opportunità per farlo, però abbiamo sbagliato passaggi anche facili, ripartenze facili, ci siamo incaponiti e poi abbiamo regalato i gol e quando regali i gol difficilmente ne esci coi punti. Abbiamo regalato troppo, però non mi sento di dare la colpa ai difensori o alla difesa. La squadra che deve interpretare meglio le fasi, deve interpretare meglio le partite e deve metterci un po' più di carattere perché non è possibile che ogni volta che prendiamo gol ci sciogliamo come la neva al sole. Non sono le caratteristiche delle squadre che piacciono a me, evidentemente. Pensavo che avevamo raggiunto una quadratura e ci manca ancora un po', quindi non c'è da dare colpe. Le colpe se le deve prendere l'allenatore quando si perde e quando si perde così sbagliando anche tanto. Mi dispiace perché, ripeto, fino a ieri abbiamo preparato una partita attenta e ben giocata. Per una parte ci siamo riusciti, però appena abbiamo sbagliato qualcosa siamo andati un po' in tilt e abbiamo sfruttato malissimo le palle che ci siamo costruite nel modo in cui volevamo, cioè lasciando campo al Tolentino per poi ripartire. Ci abbiamo avuto, ripeto, diverse occasioni per far male al Tolentino anche sullo 0-0, anche sull'1-0, anche sul 2-0. Però se tu non sei attento, se tu sei poco preciso, se non sei ordinato succede questo. Poi se ci metti un po' di supponenza, un po' di superficialità e un po' di mancanza di carattere va a finire così. Sì, quindi c'è da rimboccarsi le maniche e c'è soprattutto da capire che cosa si sbaglia. Le prestazioni c'erano, forse mancavano soltanto i risultati che adesso sono avvenuti, nonostante diverse assenze. Sì, sì, diciamo che oggi la squadra mi ha reso orgoglioso del lavoro che facciamo, perché comunque abbiamo avuto una squadra molto forte, con quattro under titolari di quei due che potrebbero disputare il campionato degli allievi. Quindi quando un attore trova dei risorsi importanti, anche da chi magari ha visto un po' troppo da fuori, vuol dire che si sta lavorando bene. Quindi sono contento e ringrazio tutti i ragazzi, perché comunque oggi abbiamo dato dimostrazione di quelle che sono le nostre qualità, i nostri valori e il nostro gioco. Quindi sono contento, perché quando una squadra lavora per il gioco, lavora per cercare un certo tipo di prestazione, è importante che venga premiata in questa maniera. Quindi sono contento, quindi ringrazio ancora molti ragazzi.